Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo della nuova Ferrino Grit 2, le nuove tende ultralight di Ferrino, pensate per il backpacking, da due persone e direi di partire subito col montaggio e vediamo in quanto tempo la riusciamo a montare da soli. Vi anticipo già che in questo video utilizzerò dei termini tecnici che se non conoscete potete andare a recuperare nel video che ho fatto, che trovate qua in alto a destra, sulle tende. Quindi se qualche termine non vi suona familiare vi consiglio di guardarvi questo video. Ma iniziamo subito con la recensione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora ragazzi iniziamo la nostra struttura attorno alla tenda partendo subito con la struttura della tenda. Come vedete è diciamo un igloo all'incirca, quindi con tutti i pregi e difetti. Se ci avviciniamo vi faccio vedere intanto come è montata. Non è sicuramente una tenda autoportante come avete visto al video. Per il montaggio molto semplice abbiamo il palo grigio con la fettuccia grigia quindi non possiamo sbagliare e girando da quest'altra parte abbiamo la fettuccia arancione per il palo arancione. Quindi non è assolutamente difficile da montare. Qui abbiamo i soliti picchetti per il caso volessimo picchettarla. Io l'ho messo su con i 6 picchetti per un settaggio minimo. Abbiamo il nostro cordino da mettere a terra per assicurarla per il vento che ci va comunque ad aprire anche un po' la tenda perché poi vedremo che dentro la tenda è un po' particolare. Continuando anche qua il picchetto abbiamo due apsi con due porte, cosa che mi piace molto, la doppia porta, con la possibilità di aprire qua sotto. Come vedete apriamo per togliere la condensa e abbiamo anche la zanzariera. Il tutto ciò possiamo aprire anche la porta dietro nel caso dovessimo utilizzarla in climi particolarmente caldi. Andiamo ad aprire la porta dietro, vi faccio vedere. Con il velcro, come potete vedere, per andare a ridurre la pressione sulla cerniera. Noi fissiamo la porta con l'apposito gancetto che abbiamo qua. Ok. Allora, come potete vedere c'è spazio nell'abside. Ci sta tranquillamente uno zaino da 50 litri con anche degli scarponi, forse anche due zaini da vuoti. Tranquillamente spazio ce n'è per lo stivaggio, quindi nessun problema, zanzariera fatta bene. Parliamo dopo del catilo perché è uno degli aspetti che mi è piaciuti di meno, ecco. Proseguendo, abbiamo anche da questa parte un cordino per ancorare la terra, la tenda e renderla più stabile in caso di vento. Continuando il nostro giro, sulla parte anteriore troviamo a sua volta una presa d'aria per fare uscire l'umidità e dare aria della tenda. E la porta principale che vado ad aprire. Prima di iniziare a parlare dell'interno della tenda voglio spendere delle parole sul telo esterno e sul telo del catino. Perché Ferrino li ha realizzati con un materiale 100% riciclato, abbiamo quindi sicuramente un'attenzione dal punto di vista di Ferrino veramente ottima per quanto riguarda l'ambiente. Troviamo a questo proposito un'impermeabilità esterna di 3.000 colonne d'acqua e del catino da 8.000. Quindi direi che siamo a posto per quanto riguarda l'impermeabilità. Ora entriamo e vi faccio vedere l'interno della tenda. Perciò entriamo, io apro la mia zanzarriera. Cerniere tranquillamente ottime. Qualità Ferrino ragazzi, quasi non ve lo dico più che è ottima per quanto riguarda le tende. Allora, eccoci qua. All'interno della tenda magari andiamo a fissare la zanzarriera, qui così, con il suo gancetto. Ok. Allora, cosa troviamo all'interno della tenda? Vabbè, qui abbiamo un'altra abside all'esterno. Abbiamo sia da una parte che dall'altra dei contenitori per poter tenere telefono, occhiali, portoggetti. Vabbè, molto semplici. Abbiamo qua in alto un gancetto dove poter andare a riporre la nostra lampada. Come vi ho detto, il telo, la parte bassa, anche questo è in materiale reclato. Quello che volevo farvi vedere, che mi gira un secondo. Allora, indifferentemente dalla parte in cui dormiamo, vedete che la parete scende abbastanza a strapiombo, ok? A me sarebbe piaciuto se la parete venisse tenuta più fuori, più all'infuori. Anche andando a fissare il cordino esterno, questo non cambia molto. Perché nel momento in cui noi andiamo a dormire, tenendo conto che magari abbiamo anche sotto 5-6 cm in materassino. Vedete? Io con la faccia andrei a sbattere sul telo della tenda. Questo però si può ovviare. La tenda è particolarmente lunga, quindi noi possiamo andare più in fondo coi piedi. Adesso io mi sposto completamente in fondo coi piedi. Guardate. Vedete? Qui non ho assolutamente più problemi. Quindi diciamo che il problema per quanto riguarda la parete che scende a strapiombo, io l'avrei fatta magari tirata un pochino di più, in modo tale che si vedesse meno. Però allo stesso modo, essendo così lunga la tenda, si riesce a ovviare senza problemi. Tenete conto che poi, io sono molto alto, sapete, sono quasi 2 metri. In questo caso, tenendo conto che mi mette dentro anche il materassino, eccetera, rimane comunque dello spazio tra il materassino e la fine della tenda per poter riporre altri oggetti, una maglietta, una bottiglia d'acqua, quello che serve. Quindi da parte interna mi piace, è usufruibile per due persone tranquillamente, ci si sta veramente comodi, con anche spazio per poter mettere anche della roba restante e anche all'esterno, come abbiamo visto negli upside, ci sta tanta roba. Vorrei farvi vedere come sono fatte veramente bene le cuciture. Guardate un esempio in questo punto qua, con doppia nastratura da una parte e doppia termosaldatura anche su quelle verticali. E' veramente fatte molto molto bene, mi piacciono un sacco le cuciture così, perché rendono la tenda veramente super impermeabile e super resistente al vento. Se scendiamo poi lungo tutta la parete, vediamo anche qua in basso, nei punti critici, che è stato messo un doppio telo. Quindi noi abbiamo il telo classico del pavimento, più un altro pezzetto di telo con tutta la saldatura termosaldata, anche qua. E questo si rivela anche nei punti critici laterali. Come potete vedere abbiamo anche qua un doppio tessuto. Una cosa che non mi è piaciuta di questa tenda e non ne capisco il motivo, è in particolare il catino. Guardate come è basso. Pur andando a tirare completamente la tenda, il catino resta veramente basso e non si alza completamente. Cioè tenete conto che alzato dovrebbe essere così, a questa altezza. Se io lo lascio, vedete che si attorciglia su se stesso, va molto più giù. Quindi nel caso dovesse avere, mettete, tanta pioggia, un catino che rimane così basso può risultare un problema. Non capisco come mai ci sia questo problema che resti così in basso quando dovrebbe restare più in alto. E tenete conto che la tenda in questo momento è completamente tirata. Cioè più tirata di così da strappo per intenderci. È un aspetto negativo sinceramente. Questa cosa qua non mi piace. Non mi piace. Non è influente nel caso dovessimo usarla in climi caldi o senza pioggia, ma con la pioggia questo può diventare veramente un problema. Veniamo quindi alle conclusioni del video. Lasciatemi esordire in queste conclusioni con una frase. Finalmente Ferrino ci fa delle tende ultra light, pensate per il backpacking. Allora, le tende di Ferrino sono indiscutibilmente di ottima qualità. Abbiamo sempre trovato ottime saldature, ottima cuciture, ottima cerniere, via dicendo la qualità è ottima. Però pesavano sempre tanto. Cioè le tende di Ferrino, ragazzi, io sono anni che le guardo, ma tende a portarmi in due alte vie. Non lo mai trovate così leggere. Questa pesa un chilo e sette, che distribuito in due persone, alla fine sono 850 grammi a testa. Non è così tanto se ci pensiamo. L'ingombro è ridotto, facile da montare, facile da smontare allo stesso tempo, perché una volta che andiamo a tirar via i pali e i picchetti, questa si rifa su molto semplicemente come se fosse una tovaglia. È molto semplice. E quindi veramente grazie Ferrino per averci donato, finalmente una tenda ultralight. Venendo alle conclusioni, dicevamo, cosa mi è piaciuto? Il peso, come dicevamo, un chilo e sette per una tenda a due posti ultralight di queste dimensioni, tanta roba. Mi è piaciuto la tenda in sé, come è costruita, come è pensata, i materiali, le cuciture, tutta la qualità di Ferrino, mi è piaciuto tantissimo. Non mi è piaciuto, come dicevo, il catino, la parte esterna del catino, che rimane troppo bassa, troppo troppo bassa. Mi piacciono le dimensioni, quanto è lunga. Mi piace anche il colore, dico la verità. Sinceramente anche il colore, cioè è disponibile anche un'altra colorazione, ma questo colore bianco con le cuciture, con tutte le particolari arancioni, mi piace molto. È una tenda comunque pensata per la media quota, non ci andrei mai troppo in alto, su qualche ghiacciaio, o ai limiti delle nevi perenni, no. Al compenso, si può utilizzare anche a livello del mare, io l'ho utilizzata al mare, senza nessun problema, tenendo benissime le absidi aperte, l'aria circola senza nessun problema. Quindi, ah, un altro punto positivo che mi è piaciuto, che in confezione si trovano anche un palo per risparare la palleria, nel caso si dovesse rompere, e anche dei pezzi di tessuto per poter andare a riparare eventuali cuciture che si dovessero rompere, o pezzi di materiale che per caso dovessero rompersi. Quindi, in sostanza, mi è piaciuto, ottimo anche il prezzo, lo si trova ufficialmente a 240 euro, io l'ho trovata su Amazon attorno ai 180, che quindi va a far concorrenza anche a un tipo di tende di una fascia di mercato minore, per esempio le Nature Egg, che costano anche loro sui 160-180 euro, con lo stesso prezzo possiamo prendere una tenda della Ferrino con una qualità completamente diversa allo stesso identico prezzo, come dicevamo. Quindi, mi piace molto, davvero, questa tenda la consiglierei a tantissime persone, ecco. Perciò, ragazzi, la speranza di essere stato esauriente e risaustivo, io vi ringrazio, e lasciate qua sotto nei commenti le vostre considerazioni, se avete avuto modo di provare anche voi questa tenda, altrimenti ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!